Non è andata bene di lui, come stai? Complimenti a posto, figlia, a posto. Certo, ti posso dire che parlano delle foto bellissime? Sì. Mi appena sveglio, voglio notti così. Tanti caffè hai preso? Eh? Hai preso solo un caffè. Non ho mangiato due cornici. Bravo! A pittino ho battuto pure nolo, eh? Io la sarei per nolo. Allora. Allora. No, Lò. Non cioè brevi... Allora. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.